Lei sta bene, torniamo a chi sta male. Il paziente è sotto alo peridolo e lo ha fatto tornare lucido. Diagnosi differenziale, dolore alla schiena, vescica, neurogena, psicosi. Sintomo che ignoravamo se non mi strozzava. Scusi se ho rallentato il gruppo dicendolo. Eppure lo hai fatto. La sefilide terziaria corrisponde. I test sono negativi. Molti farmaci provocano quei sintomi. Antidepressivi, triciclici, ritalin. Anche altre piante locali, l'assenzio, lo stramonio. Visto quanto avrebbe dovuto ingerirne, come minimo ce l'avrebbe detto. Forse non lo sapeva. Forse uno di quei ragazzi al campo si è stancato delle lezioni di Driscoll e l'ha avvelenato. Andate al campo e verificate potenziali veleni. Io ho totalmente ignorato quello che hai subito e non ho mostrato alcuna compassione. E tutte le sei uscita con una buona idea. Un punto a favore della durezza. Grazie. 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 Grazie.